Cosa vogliamo fare noi? Noi oggi vogliamo recuperare queste miniere, vogliamo fare un centro culturale che recuperi la nostra cultura del locale, la cultura ladina e che trasmetta alla gente la sensazione, l'emozione di entrare all'interno di questo che per noi è un mondo sotterraneo, un mondo molto sconosciuto che però è un mondo molto antico e quindi trasmette una serie di sensazioni alle persone quando entrano di paura e di stupore, possiamo dire così. Quindi stiamo facendo questi lavori che termineranno tra un paio di anni, recupereremo queste miniere, sarà possibile entrare con un piccolo trenino all'interno di queste miniere, sarà possibile fare dei giri con una guida che vi porterà a fare questa visita guidata.